Salve e bentornati a Incipit. Il libro di cui vi parlo oggi è un grande classico. Io ci sono cresciuto con questo libro ed è il libro cuore di Edmondo De Amicis. Un libro che sicuramente ha tanti anni è un po' ingenuo nel raccontare le cose ma è figlio dell'epoca in cui è stato scritto ed è un libro che nelle scuole, almeno quando io ero bambino, ci facevano leggere, non dico a forza, ma ci incoraggiavano a leggere. Devo dire che molti passaggi sono stati veramente memorabili. Tra l'altro fu fatto un film per la televisione con Johnny Dorelli, un film che non è stato niente male, raccontava molto bene l'atmosfera del libro cuore, ma leggiamo l'Incipit. Ottobre, il primo giorno di scuola, 17 lunedì. Oggi, primo giorno di scuola. Passarono come un sogno quei tre mesi di vacanza in campagna. Mia madre mi condusse questa mattina alla sezione Baretti a farmi iscrivere per la terza elementare. Io pensavo alla campagna e andavo di mala voglia. Tutte le strade brulicavano di ragazzi. Le due botteghe di libraio erano affollate di padri e di madri che compravano zaini, cartelle e quaderni e davanti alla scuola si accalcava tanta gente che il bidello e la guardia civica duravano fatica a tenere sgombra alla porta. Vicino alla porta mi sentì toccare una spalla. Era il mio maestro della seconda, sempre allegro, coi suoi capelli rossi arruffati, che mi disse, dunque Enrico, siamo separati per sempre? Io lo sapevo bene, eppure mi fecero pena quelle parole. Entrammo a stento. Signore, signori, donne del popolo, operai, ufficiali, nonne, serve, tutti quei ragazzi per una mano e i libretti di promozione nell'altra, empiva la stanza ad entrata e le scale, facendo un ronzio che pareva ad entrare in un teatro. Lo rividi con piacere, quel grande camerone a terreno, con le porte delle sette classi dove passai per tre anni quasi tutti i giorni. C'era folla, le maestre andavano e venivano. La mia maestra della prima superiore mi salutò di sulla porta della classe e mi disse, Enrico tu vai al piano di sopra quest'anno, non ti vedrò nemmen più passare, e mi guardò con tristezza. Il direttore aveva intorno delle donne tutte affannate perché non c'era più posto per i loro figlioli e mi parvi che egli avesse la barba un poco più bianca che l'anno passato. Trovai dei ragazzi cresciuti, ingrassati. Al pian terreno, dove si erano fatte le ripartizioni, c'erano dei bambini delle prime inferiori che non volevano entrare nella classe e si impuntavano come somarelli. Bisognava che li tirassero dentro a forza e alcuni scappavano dai banchi, altri al vedere andar via i parenti si mettevano a piangere, e questi dovevano tornare indietro a consolarli e a ripigliarseli, e le maestre si disperavano. Il mio piccolo fratello fu messo nella classe della maestra del Cati, io dal maestro Perboni, suo al primo piano. Alle dieci eravamo tutti in classe, cinquantaquattro, appena quindici o sedici dei miei compagni della seconda, fra i quali De Rossi, quello che ha sempre il primo premio. Mi parve così piccola e triste la scuola, pensando ai boschi, alle montagne dove passai l'estate. Anche ripensavo al mio maestro di seconda, così buono, che rideva sempre con noi, e piccolo, che pareva un nostro compagno, e mi rincresceva di non vederlo più là, con i suoi capelli rossi arruffati. Il nostro maestro è alto, senza barba, coi capelli grigi e lunghi, e ha una ruga dritta sulla fronte, alla voce grossa, e ci guarda tutti fisso, l'uno dopo l'altro, come per leggerci dentro, e non ride mai. Io dicevo tra me, ecco il primo giorno, ancora nove mesi, quanti lavori, quanti esami mensili, quante fatiche. Avevo proprio bisogno di trovar mia madre all'uscita, e corsi a baciarle la mano. Essa mi disse, coraggio Enrico, studieremo insieme, e tornai a casa contento. Ma non ho più il mio maestro, con quel sorriso buono e allegro, e non mi par più bella come prima la scuola. Il libro Cuore, ripeto, ha incantato più di una generazione. Ripeto, è un libro scritto in modo ingenuo, ma molto ben confezionato. È un libro di buoni sentimenti. Ma se non l'avete letto, io un'occhiata gliela darei. Cuore di Edmondo De Amicis. Ve lo consiglio. A presto. Ciao, sono Stefano Mondini e questo è il mio canale YouTube. Puoi iscriverti premendo il pulsante con sopra la mia faccia, così potrai sempre essere aggiornato su tutto quello che pubblicherò. Inoltre, sarei ben felice se tu commentassi e mi dessi suggerimenti. A presto.